Grazie Presidente, ovviamente condividiamo l'apprensione che può esserci su una procedura che viene sperimentata per la prima volta nell'amministrazione, è una procedura complessa sicuramente, non v'è dubbio. Nel merito della mozione ci tengo a sottolineare il fatto che il regolamento in realtà non vincola l'amministrazione verso una procedura di affidamento piuttosto che un'altra, anzi spinge l'amministrazione ad individuare quella procedura di affidamento che è maggiormente adatta, adeguata al tipo di servizio oggetto della procedura stessa. La scelta chiaramente che è stata fatta in tal senso dagli uffici, dal Dipartimento è sotto gli occhi di tutti, ne abbiamo anche discusso in sede di commissione, è una procedura di bando complessa come dicevamo, che intanto sta andando avanti, abbiamo appreso anche in commissione che ormai in dirittura di arrivo sarebbe anche alquanto rischioso interrompere questa procedura visto che comunque anche le strutture municipali si sono adeguate a questo percorso. Sicuramente e come abbiamo già detto più volte questo percorso va monitorato quindi i lavori anche di commissione sicuramente ci potranno aiutare a monitorare e eventualmente dare impulso ad azioni ulteriori amministrative che ci consentano di assicurare che questo servizio importantissimo per il diritto allo studio degli alunni con disabilità venga garantito e nel vignore dei modi. E altresì ovviamente concordo sull'aspetto Presidente... Però chiedo cortesemente sia ai consiglieri che al pubblico di fare silenzio, grazie. Dicevo è ovviamente auspicabile ma anzi è intendimento della maggioranza continuare a monitorare tant'è che nel regolamento è previsto l'istituzione di un vero e proprio osservatorio e di un vero e proprio sistema di monitoraggio per il servizio stesso e capire se successivamente è possibile intervenire per migliorare, cambiare e adeguare eventuali modalità di erogazione del servizio oltre che delle modalità di affidamento. Quindi pertanto pur condividendo la prensione come gruppo di maggioranza noi non appoggiamo questa mozione e chiediamo anzi che il bando prosegua il suo percorso perché è assolutamente importante garantire per i prossimi anni e quindi auspichiamo che sia un bando così come preannunciato in Commissione di natura pluriennale che consente appunto di assicurare anche la continuità essenziale al servizio. Grazie.